Vai, fermati! Grazie papà! Non è un colibrì. Dicidi no? È una farfalla. No! Alla coda? È fiumata? C'è il becco lui, c'è il proprio... Sì, uno sì. Aspetti ancora un po', Gabriel? Stai filmando. Stai, dietro di te. Ah, lo stai filmando. Stai fermo Davide. Stai fermo, fermo. Ma no, è un uccello. Sì, è un uccello, ha le ali, si vedono bene. Ma questo qua ce ne ha dietro più uccello. Ma no, è un colibrì. È un colibrì, no? È un colibrì questo. Ma c'ha le antenne? Ma è un colibrì. Ha le antenne. Ho capito, ma vuole che i colibrì ce le hanno? Colibrì ha le antenne. Eccoci! E' lì dietro di te. E' dietro la signora. E' lì. Dove vai? Vieni qui. Torna, torna perché vai ai fiori. E' andato ai fiori, ma quelli là. Stai fermo. Stai fermo.